La settimana dal punto di vista degli allenamenti è stata migliore in relazione alla situazione fisica dei giocatori rispetto a quella precedente, nel senso che Alessandro Gentile ha quasi completamente smaltito il suo problema alla caviglia, Andrea Amato convive ancora con un problemino al ginocchio ma non ha saltato alcuna seduta, abbiamo avuto il rientro in maniera molto parziale di Treichel insieme alla squadra per delle parti di allenamento. Il suo utilizzo, se di utilizzo si tratterà perché navighiamo onestamente a vista, non sarà certo in funzione della partita con Milano, quindi se giocherà non sarà perché penseremo che con lui avremo qualcosa in più o in meno ma sarà proprio per fargli avere un assaggio il più presto possibile con il campo. Però è una cosa che decideremo sabato senza alcuna pretattica perché credo non abbiamo bisogno di fare alcuna pretattica in questo caso, proprio in relazione alle sue sensazioni che valutiamo quotidianamente. Il nostro obiettivo è molto onestamente averlo, non dico al 100%, ma averlo vicino a quello che dovrà essere nella partita di Cremona della domenica successiva. Ma guarda allora, io quello che ho detto, non vorrei che fosse stato frainteso, ho detto e l'ho detto anche alla squadra prima di dirlo all'esterno, che questo è molto importante per me, che come avremmo affrontato il giorno dopo, i minuti successivi alla fine della partita, con Bologna, quel tipo di sconfitta avrebbe definito che tipo di personale di gruppo squadra siamo e quindi la nostra stagione. Non ho voluto assolutamente indicare nella partita con Milano la cartina di tornasole della nostra stagione. La squadra ha reagito bene, lo posso già dire adesso, prima della partita, la squadra ha definito un senso di responsabilità, di coscienza rispetto a quello che è accaduto e si è allenata con il piglio giusto, quindi sono già soddisfatto di come la squadra ha reagito a questa brutta sconfitta di domenica. Questo poi si deve tradurre in un continuo percorso di crescita e quindi anche nella partita di domenica vogliamo vedere qualcosa di diverso. Ma non sarà vincere o perdere questa partita che dirà se abbiamo reagito bene o male, io posso già dire che abbiamo reagito bene.